Ciao a tutti, oggi abbiamo il Nikon 105mm f1.4, la nuova lente tele per ritrattistica e volendo anche per paesaggistica però non è una lente per macro perché come vediamo dopo la minima distanza di messa a fuoco è troppo lunga per permetterci a close up abbastanza vicini comunque non perdiamo tempo, andiamo a vedere insieme cosa ha da offrire il Nikon 105mm è una lente tanto grande e pesante quanto pregiata perché le dimensioni, sì, sono molto generose come potete vedere e collegarla ad una fotocamera, specialmente quelle professionali, aumenta il peso rende tutto il sistema abbastanza pesante quindi leggermente difficile da gestire però le prestazioni che restituisce valgono sicuramente a contrastare questo difetto che ha perché come vedremo dopo questo Nikon resenta alla perfezione sotto il punto di vista della nitidezza e qualche altra cosa comunque chiudiamo per ora quella parentesi, passiamo a vedere come è costruito, quindi cosa offre la costruzione è molto solida, per esempio la ghera della messa a fuoco si muove molto fluidamente, non ha giochi sul barilotto abbiamo oltre alla ghera la finestra che ci indica la minima distanza di messa a fuoco che è le altre ovviamente, però la minima distanza di messa a fuoco è 1 metro, questo come dicevo prima non rende la lente utile in macro perché con la lunghezza focale che ha non ci possiamo avvicinare più di tanto al soggetto quindi non abbiamo un ingrandimento di 1 a 1 del soggetto oltre alla finestra abbiamo anche lo switch per selezionare la modalità di messa a fuoco e manca perché appunto manca lo stabilizzatore e lo switch per gestire lo stabilizzatore come vedremo dopo potrebbe risultare un leggero problema specialmente in condizioni di scarsa luminosità perché la lunghezza focale è abbastanza lunga quindi le vibrazioni sono diciamo accentuate dalla lunghezza focale comunque lo vedremo dopo per quanto riguarda la costruzione le altre caratteristiche da menzionare sono il filtro davanti il diametro dei filtri deve essere 82 mm quindi filtri abbastanza grandi e abbiamo la guarnizione sulla bagnonetta che isola il corpo macchina e il retro dell'obiettivo stesso da polvere e gocce di acqua quindi umidità passando però alle prestazioni che è la parte che mi interessa farvi vedere maggiormente specialmente la nitidezza come dicevo prima partiamo però dalla distorsione allora l'obiettivo lunghezza focale 105 mm quindi ci possiamo aspettare un po' di distorsione infatti abbiamo una leggera distorsione a cuscinetto che però è semplicemente corregibile e poi è così leve che verrà fuori solo con soggetti particolarmente diciamo geometri o comunque che hanno dei profili che sono predisposti a far venire fuori questo tipo di distorsioni come per esempio griglie o per esempio cancelli che comunque hanno una geometria a griglia cose del genere insomma quindi al di là di questo la distorsione è veramente semplice da correggere lieve non dobbiamo preoccuparci assolutamente come non dobbiamo preoccuparci della vignettatura perché viene fuori solo a 1.4 e semplicissima da correggere sono due click in Lightroom e appunto io personalmente non la prendo mai in considerazione fra i difetti quando scelgo una lente perché è così semplice da correggere che veramente non me ne preoccupo minimamente ovviamente se una lente inserisce così tanta vignettatura che è difficile da correggere allora sì a quei punti diventa un difetto e appunto lo prendo in considerazione però questo non è assolutamente il caso come non è il caso delle aberrazioni perché anche loro sono gestite molto bene vengono fuori alla massima apertura e nelle zone tipiche che presentano un contrasto di luce elevato comunque anche queste sono semplici da correggere addirittura se lasciamo inserito la correzione automatica delle aberrazioni nella fotocamera non ce ne dovremmo preoccupare assolutamente possiamo tranquillamente scordarcene perché la fotocamera fa un ottimo lavoro nel correggerla altrimenti se siamo dei puritani diciamo bastano 3 o 4 click in Lightroom e abbiamo risolto comunque potete vedere dei test che appunto rimangono lievi come disturbo quindi passiamo alla prestazione che mi interessa farvi vedere maggiormente la una delle due ovvero la nitidezza perché rasenta la perfezione questo obiettivo veramente veramente nitido già a 1.4 quindi all'apertura focale massima ha un livello di dettaglio fenomenale su tutta la superficie questa è la caratteristica particolare su tutta la superficie quindi sia agli angoli nelle zone periferiche e al centro abbiamo un livello altissimo di dettagli utilissimo per ritrattistica e paesaggi perché possiamo mettere il soggetto dove ci pare nell'inquadratura quindi in un terzo, nell'angolo, possiamo nasconderlo senza appunto doverci preoccupare del calo di nitidezza lo stesso vale per i paesaggi abbiamo un bel paesaggio uniformemente nitido cosa importantissima quindi insomma da questo punto di vista la lente si comporta molto molto bene veramente molto, mi ha lasciato, insomma, mi ha lasciato senza parole dal, diciamo, in modo positivo come mi ha sorpreso il bokeh perché il bokeh, possiamo, diciamo, aspettarci un bokeh duro vista la qualità della lente e quindi come rende nitide le foto in realtà il bokeh è abbastanza morbido non, diciamo, le highlight nello sfondo non hanno un profilo così duro quindi creano anche questo contrasto piacevole che ovviamente il bokeh deve avere fra la parte a fuoco e quella sfocata quindi lo sfondo e appunto, dicevo, è una prestazione buona anche se non è ovviamente al massimo per 1.4, per un f1.4 mi aspettavo qualcosa di più però mi aspettavo anche questa prestazione perché appunto vedendo la nitidezza avevo sospetto che fosse così però comunque è una prestazione buona rende l'obiettivo un ottimo obiettivo per appunto volita artistica e passeggistica appunto e ovviamente qualche close up dipende dalla grandezza del soggetto potrebbe scapparci comunque, passando all'ultima cosa allo stabilizzatore che abbiamo accennato a inizio video quanto risulta essere un problema la mancanza dello stabilizzatore risulta essere un problema solo nelle quelle condizioni di scherzo di luminosità quindi di sera, di notte soprattutto però con 1.4 possiamo compensare decisamente tante condizioni di scarsa luminosità quindi alla fine non è un vero e proprio problema l'unico problema è quando vogliamo fare close up ma questa lente come abbiamo detto non è proprio l'ideale per farlo vi consiglio il Sigma 105mm vi lascio il link in descrizione alla recensione se vi interessa chiudo la parentesi e concludo il video dicendo che questa è una lente che resenta la perfezione almeno sotto il punto di vista della nitidezza perché è veramente veramente nitida comunque fatemi sapere che ne pensate ovviamente con un commento io mi fermo qui vi lascio il link all'articolo al blog lo trovate anche nelle schede in descrizione sarà online il prima possibile quindi se non lo trovate subito aspettate qualche secondo se avete domande ovviamente fatele con un commento vi rispondo il pieno possibile quindi come dicevo prima finisco il video qui ci vediamo al prossimo quindi Dalla è tutto arrivederci